Lodi, visto che passiamo da Catania, oggi c'è stata una gran partita, Montella l'avvertiamo, Catania ha battuto 4-0 la Lazio, andiamo da Lodi per chiedergli qual è il segreto di Montella, lei che è stato così valorizzato da Montella e insomma c'era un chiaro feeling. Lo voleva anche? Lo voleva a Firenze. Buonasera a tutti, saluto il mister a Montella, è molto piacere vedere il mister, faccio complimenti al mister perché sta facendo veramente un grosso campionato, sono molto contento. Ma qual è il segreto? Il mister tratta tutto allo stesso modo, sia il campione che il giovane che ha 18 anni, penso che questa sia la forza. E poi quando si va in campo si sa quello che fa perché prepara le partite nei minimi particolari. Va bene Lodi, mi sembra che sia in scia con Montella, cioè dichiarazioni un po' bottonate, mi raccomando. Però ha rinnovato adesso col Catania. Ha rinnovato col Catania, niente, non ci va a Firenze insomma. Va bene, Lodi ritorniamo poi da lei, la lasciamo con Peppe Di Stefano. Montella davvero complimenti e grazie. Grazie, complimenti anche a Ciccio e a tutto il Catania. Abbiamo fatto un grande risultato e un grande campionato. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Grazie. Allora, ciao Golini con Walter...